Intel prepara la sua 3D di cache, ma i PC gamer piangeranno. Nvidia sta finendo gli stock dell'RTX40 e Intel Battlemage potrebbe arrivare prima del previsto. Queste e altre notizie nel nuovo episodio di Morden News. Oh, appena ho visto la notizia di Intel ho detto ci devo fare assolutamente un episodio di Morden News e per fortuna c'erano abbastanza news di contorno per valorizzarlo al massimo. Quindi preparatevi a questo riassuntone che vi ricordo che come ogni volta è offerto dal nostro configuratore con intelligenza artificiale che vi permette di configurare il vostro prossimo PC con l'aiuto di tutte le conoscenze che abbiamo dentro Morden Tech e un pizzico di intelligenza artificiale selezionando semplicemente colore, preferenze sul brand di CPU e GPU oltre al form factor potrete effettivamente avere tutto quello che vi serve nell'arco di secondi calibrato al 100% sul vostro budget. E preparatevi perché per il Black Friday abbiamo delle belle novità ma soprattutto verranno implementate tutte quante le offerte dell'evento direttamente nel configuratore. Ma su questo vi aggiorno tra poco. Link in descrizione. Ok, vediamo un attimino ad iniziare. Parlando di soldi con una notizia un po' particolare. Negli Emirati Arabi Uniti è stato avvistato il primo Asus Dual Screen che vi ho fatto vedere l'anno scorso al CS ed è un portatile che fondamentalmente vanta, come potete vedere, due monitor sia nella parte superiore che nella parte inferiore per massimizzare quella che è l'offerta schermi all'interno di un portatile con ovviamente supporti e cose del genere. Come potete vedere si può utilizzare sia in verticale con il supporto di una tastiera esterna che in orizzontale. Il concetto è che è stato avvistato negli Emirati Arabi Uniti per questo prezzo di 1.421 della valuta locale che però si traducono in circa 3.700 euro. Un prezzo veramente assurdo considerato che per quanto sia la configurazione massima monti soltanto un 285H, meno potente della versione K desktop, 32 giga di memoria e 2 tera. Ovviamente l'offerta degli schermi è veramente, veramente incredibile però onestamente non è così interessante ad un prezzo così alto. Come ci riporta qui Videocards? Qui abbiamo le specifiche generali di questo Zenbook Duo che ci tengo a dire è la versione potenziata dello Zenbook con Meteor Lake che vi ho fatto vedere all'inizio di quest'anno nel periodo di aprile però di per sé potete vedere come per esempio la versione con Meteor Lake 285H costi al momento 1.600 euro, cioè meno della metà. Però c'è da dire che questo qui è un prezzo già stabilizzato su un prodotto che è sul mercato effettivamente da più di 8 mesi e oltre a questo c'è da sottolineare come il prezzo degli Emirati Arabi Uniti potrebbe aver subito qualche forma di embargo o comunque qualche forma di tassa doganale che abbia incrementato il prezzo per appunto riportarcelo poi in quella maniera. C'è anche da dire che questo harrole cacca non dovrebbe uscire prima del Q1 2025 quindi potrebbe essere un prezzo placeholder. Ad ogni modo resteremo a vedere un attimino come si posizionerà sul mercato. Sempre parlando di cose che arriveranno al CS 2025 che ovviamente copriremo, vi confermo già da ora la nostra presenza all'evento MSI è pronta a lanciare un aggiornamento della Claw che come potete vedere si chiamerà MSI Claw 8 AI Plus con Lunar Lake che oltretutto ci tengo a dire che era stata un po' mostrata un po' spoilerata durante il tour del Computex è stata presente per qualche ora lo stand poi è stata rimossa tant'è che molta gente si è lamentata perché era andata lì allo stand specificatamente per farci un contenuto al volo anche se era sotto una tega di 30 cm di plexiglass e adesso finalmente possiamo vederla o almeno potremo vederla sarà la prima Endeld basata su Lunar Lake che diciamo nel contesto precedente non è che abbia fatto grandissimo successo e in termini prestazionali come potete vedere monta 200v che in realtà è una generazione molto interessante per quanto riguarda l'efficienza utilizza una GPU integrata con 8 core sotto al cofano accompagnata da due port Thunderbolt 4 16 o 32 giga di memoria LPDDR5 8533 MHz e come potete vedere c'è supporto per una P6 4.0 esattamente come per le precedenti Endeld si stima di avere un monitor 1920x1200 che dovrebbe essere quindi il 16 decimi e 120 Hz 500 nits in linea praticamente con l'offerta attuale di Rogal ix onestamente avrei preferito un OLED visto che l'offerta attuale di Steam Deck OLED domina il mercato in quel contesto e vi assicuro che cambia totalmente quello che possa offrire questa mi ricorda veramente tanto da vicino come refresh la Rogal ix quindi ho paura che effettivamente alla fine della fiera abbiamo un prodotto che possa in qualche modo non essere la cosa più valida del mondo vedremo un attimino quando esce un recente leak ha iniziato a far parlare di Intel Battlemage che sarebbe la seconda generazione di GPU discrete per la linea di Arc da parte di Intel e sembrerebbe che questa nuova linea di GPU potrebbe arrivare prima delle RTX 50 e delle RX 8000 che invece dovrebbero essere annunciate durante il CS 2025 sono curioso di andare lì e vedere un pochettino se potremmo mettere le mani su qualche custom modello in anteprima ad un immodellicata questa immagine che parla di un Intel Arc Battlemage SOC però al 12-2024 quindi a dicembre che onestamente potrebbe essere una mossa di marketing interessante da parte di Intel per riuscire ad anticipare le concorrenti e prendere un pochettino più di rilievo mediatico visto che i suoi lanci recenti sono stati veramente tanto massacrati prima di tutto dalle prestazioni che mancavano nell'ambito del gaming e dalle problematiche che sono state riscontrate da tantissimi recensori oltre a noi di Modern Tech ed effettivamente anche dal fatto che il 9800 X3D sia stato annunciato letteralmente il giorno dopo andando a minare completamente l'interesse per le CPU di Intel dopo il disastro mediatico che sono state quindi di per sé anticipare la concorrenza questa volta potrebbe essere una buona idea così come hanno fatto con le CPU server di cui parliamo tra poco e parlando di concorrenza Intel forse dovrebbe un attimino mettere a rivedere le proprie politiche di mercato perché se andiamo su Amazon.com nella sezione Best Seller il più grande e-commerce al mondo nel digitale come potete vedere vanta praticamente soltanto CPU di casa AMD per le prime 12 posizioni letteralmente queste sono le CPU più vendute sulla piattaforma di Amazon.com e come potete vedere tolto sto Dell Optiplex che non so perché sia qui effettivamente si fatica ad arrivare al 13600KF nonostante comunque un prezzo abbastanza interessante e poi arrivano quelli di Intel ma comunque continuano a uscire prodotti di AMD come potete vedere il 9800X3D è attualmente il best seller accompagnato appunto dal 7800X3D 5600X 5700X 7600X e poi arrivano gli X3D delle precedenti generazioni e qualche CPU meno prestante molto interessante vedere il 5500 visto che da loro costa 83 dollari e magari un bare bone un PC da ufficio un PC da gaming per tuo figlio per tuo nipotino per tuo cugino te li fai no? con questa piccola CPU onestamente se non hai grosse pretese potrebbe essere una buona opzione peccato che farli arrivare in Italia costi veramente tanto perché ho 33 dollari è un prezzo invidiabile cioè praticamente meno degli 3 con prestazioni migliori ok adesso parliamo un pochettino dell'elefantone che sta presentando Intel hanno iniziato a parlare di 3D vcash ma in che contesto? quello dei server perché sapete che ovviamente sempre lo sviluppo tecnologico per le CPU parte dalla zona server e poi arriva alla zona HDT e desktop Intel in una recente intervista con Derbarware e Ben Sardu ha dato delle insight per quanto riguarda il futuro delle proprie CPU server e onestamente quello che hanno detto è molto molto interessante più che altro completo su quali sia la direzione di mercato per l'azienda blu ovvero da questa slide potete vedere che la prossima generazione Intel Clearwater Forest che arriverà nel 2025 avrà le seguenti caratteristiche prima di tutto chiplet esattamente come visto nelle ultime generazioni di Intel sia mobile che desktop ma soprattutto come potete vedere 12 core chiplet sono veramente tanti sono questi 12 pezzi qui il processo produttivo per la parte dei chiplet sarà Intel a 3 nanometri e poi si aggiungeranno i DAI basati invece su Intel 7 per la parte di input output 300 miliardi di transistor ma la cosa interessante è questa voce qui che ci riporta che ci sarà del 3D stacking per migliorare la parte di latenze tra la parte di computing e le memorie accorciando semplicemente il percorso e poi ovviamente incrementare quelle che sono le funzionalità della cache ovviamente qui possono sorgere delle doverosissime domande ovvero dai test recenti fatti anche con il 9800X3D sappiamo che la 3DV Cache non garantisca dei vantaggi almeno per quanto riguarda il contesto desktop delle persone normali nell'ambito della produttività mentre il vero vantaggio AMD qui l'ha stabilito nel contesto del gaming dove i processori X3D vantano dei miglioramenti prestazionali notevoli rispetto alle controparti lisce però qui siamo nel contesto dei server mica serve il gaming nei server servono applicativi prima di tutto bisogna dire due cose AMD è già da un po' che ha la 3DV Cache sui propri processori server Genoa X per esempio che ha la stessa forma strutturale del 7800X3D quindi 3DV Cache nella zona superiore della parte dei core effettivamente vanta già 768 MB di cache L3 che sono veramente tantissimi e come ci riporta Foronix in base all'applicativo che dovremmo utilizzare effettivamente la 3DV Cache come potete vedere porta dei vantaggi effettivi rispetto a non averla quindi di per sé per esempio qui abbiamo un vantaggio di quasi il doppio in questo codice fiscale che non ho mai visto in vita mia effettivamente ci sono dei vantaggi che possiamo riscontrare in diversi applicativi anche se in realtà per esempio in Open Phone potete vedere come la 3DV Cache disattivata vada a migliorare le prestazioni effettive quindi un po' dipende dal contesto però effettivamente ci sono degli applicativi dove la 3DV Cache nell'ambito server e nelle loro specifiche istruzioni e necessità dia dei benefici quindi dipende un pochettino da quello che si deve fare la brutta notizia però è per noi PC Gamer perché il rappresentante di Intel ha esplicitamente detto nell'intervista che non ci saranno controparti desktop con 3DV Cache per quanto riguarda appunto l'applicativo desktop e questo vuol dire che non vedremo mai un 285X3D o qualsiasi nome gli si voglia dare praticamente proprio nell'intervista riportata qui da Texpot ci dicono che letteralmente non gliene frega niente è molto più cruciale dedicarsi al mondo server dove hanno dei margini più alti delle produzioni migliori e tutto quanto ma soprattutto per loro il gaming non è un qualcosa che sia un focus per la produzione massiva quindi di per sé non hanno interesse a lasciare niente in questo ambito ma soprattutto dicono che praticamente l'impatto sul gaming per quanto riguarda la 3DV Cache maggiorata sarebbe praticamente nullo ora esistono dei test di Texpot dove riducendo la Cache L3 a disposizione del processore effettivamente come potete vedere le differenze prestazionali finali sono molto molto lievi se non nel contesto dei 4 core dipende un po' dal titolo ma le oscillazioni sono molto basse c'è da dire comunque che in questo contesto stanno riducendo una Cache esistente tentando di sperimentare quello che un incremento eventuale possa dare di beneficio però di per sé non c'è un modo per attaccare della Cache L3 e vedere se effettivamente avere 100 MB di Cache totali diano un beneficio come sul 7800 X3D o 9800 X3D che ne hanno 104 di per sé è un test comunque ambizioso ma non rappresenta il contesto reale bisognerebbe vedere con un processore creato ad hoc se effettivamente si possa fare qualcosa del genere ma non possiamo farlo perché stiamo parlando proprio di microingegneria qualcosa non accessibile ai recensori se qualcuno sa saldare Cache sui processori mi contatti che facciamo una prova ad ogni modo 3dv cache sui server ma niente per noi pc gamer un po' mi faceva sperare bene ma a quanto pare Intel non ha proprio interesse nel migliorare la propria prestazione in gioco loro vogliono soltanto offrire quello che hanno già offerto a lungo termine migliorare l'efficienza e dare tanto tanto rilievo ai server che oggettivamente sono anche i punti in cui guadagnano di più perché hanno dei contratti pazzeschi sull'ambito del gaming penso che lasceranno ampia strada ad AMD nel contesto delle schede video invece Nvidia sta iniziando a finire gli stock per quanto riguarda l'RTX40 che iniziano a latitare un pochettino dal mercato specialmente in arrivo dell'RTX50 onestamente per la fascia alta non è una grande ferita perché se in questo momento state comprando una 4080 Super oppure una 4090 onestamente rivedete le vostre decisioni di vita perché raga letteralmente a gennaio annunciano le nuove schede video tutti quanti e potrebbe esserci un calo di mercato abbastanza importante a meno che i tazzi doganali di Trump non vadano a inficiare negativamente qualcosa quindi è un po' una roulette russa possiamo vincere o perdere in entrambi i casi in maniera pazzesca cioè vertiginosa però di per sé fino a che non premi il grilletto non sai cosa uscirà da quella canna vediamo un pochettino sempre parlando di schede video però ce n'è una che potrebbe valer la pena di acquistare ed è quella per il tributo ai 20 anni di Half-Life 2 guardate che figata la parte della ventola sembra essere praticamente fatta di metallo arrugginito così come l'intera scocca onestamente è proprio figo sarei curioso di toccare le ventole per vedere se effettivamente abbiano magari creato una texture leggermente opacizzata che lasci proprio sentire la porosità e le piccole imprecisioni che si creano con la ruggine sul metallo però per il resto è veramente molto carina non sono un super fan dei personaggi visivi così non lo so non sono mai stato un grande fan però gli elementi del resto mi piacciono solo questa scritta 40-80 super forse l'avrei spostata perché boh non so questa e questa parte non mi piacciono questa e questa parte mi piacciono da morire è un 50-50 letterale spaccata a metà e con questa notizia direi che possiamo chiudere questo episodio di Morden News noi ci vediamo al prossimo video voi state su Morden Tech Salusa